Ok ma, ciao. Ciao Stefano. Allora, ti presento un effetto. Ragazzi, veramente, vi invito quindi, lo presento anche a tutti voi, incredibile, veramente incredibile. Tu che sei testimone, carte tutte, regolari. Sì. Ci sono dei nostri amici, queste carte, mazza di carte regolarissime. Quando un mazzo è regolare, ok, ha un suo disordine, giusto? Sì. Però chiaramente noi dobbiamo alimentare il tutto. Cosa vuol dire? Possiamo dare anche la mescolata al mazzo, se vogliamo. Sì. Tanto perché non ci sia nessun ordine, quindi di conseguenza varia l'ordine fra tutto, giusto? Sì. Ma andiamo adesso ad analizzare un altro punto. Tu vedi tutto il disordine. Il punto è questo, che posso anche tagliare, tranquillamente. Tu stessa adesso dobbiamo tagliare un metà. Un metà, un metà come tu. Puoi tenere anche di meno, se vuoi, come ti va bene questo? Sì. Ok, prendo un'azzettina. Tu hai questo, io questo qua, giusto? Sì. Tutte carte, ragazzi, scolate, un'azione scolata. Ora, cosa vorrei fare? Butterai giù le carte una alla volta e ti fermi alla carta che vuoi tu. Ok. Quanto vuoi tu? Quella che vuoi è indifferente. Quindi, ragazzi, quello che vedete è quello che farete voi all'acquisto. Basta? Basta. Questa è una carta del destino, perché dove ti sei fermata? Così è? Questa? Questa? Sì. Ha un numero. Due di quadri. Un numero due. Sì. Si vede, giusto? Sì. Cosa vuol dire? Dovrei guardare la seconda carta, cioè scorrerai e guarderai la seconda carta. Ok. Devo farla vedere? No, no, sì, non voglio vederla. La guardi. La fai vedere. Sì. E richiudi tutto, com'è? Sì. Metti giù. La sai solo tu. Sì. Ok? Ora, metti qua il mazzetto. Lo chiudiamo a sandwich. Sì. Molto perso. Questo. Ok. Pulitissimo. Sì. Ora, mentalmente, tu hai una carta che hai visto. Sì. Ho un numero di un destino. Due potrebbero essere otto, cinque, due. Sì. Ragazzi, quello che vedete è quello che farete. Ora, devi fare la somma mentale del numero che hai visto, in questo caso. Sì. Il due. Il due. Più la carta che hai visto. Sei un genio che vale undici, donna vale dodici, re vale tredici. Ok. Ok? Fatto. Fatto? Non posso sapere niente. Sì, non ho fatto. Ora, tu stai sapendo il mazzetto di carte e da sopra, di dorso, butta giù fino al numero pensato che hai in mente. Lo devo dire? Dopo lo dirai. È solo nella tua mente. Ok. Questa o questa? Questa. Che numero hai in mente? Il dodici. Il dodici? Sì. Se questa carta fosse la tua carta, che carta era la tua? Il dieci di picche. Gino. No, non posso credere. Sì, eccola qua. Signore e signori. No. Destini. Come hai fatto? Tutto mescolato. Sì. Ogni carta mescolata. Sì. Tutto esaminabile. Facilissimo da fare. Cattesco, Stefano. Facilissimo da fare. Solo trentello con pepolo. Cattesco. Ciao ragazze di Stefano. Bellissimo, Stefano. Ciao.